Giovedì 24 maggio, esercitazione semestrale sul Monte Verena, sull'altopiano di Asiago, per 45 vigili del fuoco dello Speleo Alpino Fluviali, provenienti da tutte le province del Veneto per esercitarsi sugli impianti di risalita per l'evacuazione dell'impianto in caso di anomalia. Tutto il personale ha dapprima seguito una lezione teorica per apprendere il funzionamento e le dinamiche in emergenza dei quattro diversi impianti che, a pieno persone. Successivamente l'incontro è proseguito con un'esercitazione pratica. Eseguite le procedure di imbarco e sbarco con gli operatori del reparto volo presente con l'elicottero Drago 71, che li ha portati in quota, dove poi hanno avuto inizio le diverse prove. I soccorritori hanno simulato un blocco della seggiovia e sgombrato lungo le diverse altezze l'impianto, calando a terra gli occupanti. Esercitazione anche per l'equipaggio volo di Venezia, che hanno verricellato gli soccorritori direttamente sui seggiolini della seggiovia.